Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Favij Oggi siamo di nuovo su Slender di Arrival Ricordate la prima puntata dove sono morto In un modo atroce dopo essere arrivato a 7 pagine Però raga era un primo tentativo Nel senso che praticamente era un po' come vedere la beta E non mi ero preparato diciamo a vincere ma ci stavo anche riuscendo Quindi nella puntata di oggi se riesco magari Cerco di arrivare a prendere tutte le 8 pagine Anche se penso che sia impossibile Spero che vi ricordiate anche il fatto che Potete prendere le insegne, tutti i poster E infilarveli direttamente nelle mutande Perché non so dove se li mette Però sinceramente non ho ancora capito a che cosa servono Però vabbè io li prendo Perfetto manca ancora uno, il volantino Ok, ok raga possiamo partire Volevo dirvi una cosa Dall'ultima volta che ho giocato a Slender di Arrival Hanno rilasciato una patch, un aggiornamento Che però non ho la più pallida idea di che cosa sia andato a cambiare Quindi qualcosa sarà cambiato di sicuro Forse non lo so Movimento dello Slender Non ho idea di che cosa hanno cambiato Però l'aggiornamento l'hanno fatto Quindi qualcosa di nuovo c'è di sicuro Intanto la vedo già qualcosa Ok, molti raga mi hanno chiesto Adesso non approfitto per dire queste cose Perché nel primo video mi avete fatto un sacco di domande Molti mi hanno chiesto di Diciamo di cosa sarebbe cambiato All'uscita ufficiale del gioco quando uscirà Perché ovviamente questa Non è l'uscita Cioè questo che vedete non è il gioco ufficiale Ma è la beta semplicemente Che non è neanche una demo È proprio una beta Cioè nel senso Un'anteprima tra virgolette Questa è semplicemente una zona Dove potete prendere le classiche otto pagine E cercare di non farvi scoprire appunto Dallo Slenderman Però non è il gioco ufficiale Il gioco ufficiale avrà innanzitutto La modalità storia Ma sarà una modalità storia Con i contro maroni Proprio per dirla tutta E quindi sarà veramente una campagna epica Credo che andrò a fare di sicuro E inoltre ci saranno più zone Dove poter raccogliere le otto pagine Non soltanto questa Questa qua appunto è soltanto una beta E molti mi hanno chiesto di metterla Tipo su media file Oh cazzo dov'è? Dov'è? Piano! Pianissimo! Pianissimo! E dentro la macchina che mi spia Sto pedofilo Dove? Ok! Ok! Non è Non è in macchina Merda! Dovrei entrare io in macchina in questo caso Ma non posso Dov'è? Brutto bastardo Ti vedo! Ok raga È ufficialmente alto 13 metri Devo riuscire A raccogliere le pagine Prima che mi stupri Ok Devo riuscire a trovarle Prima di tutto Non c'è Non c'è Perfetto Facciamo il giro Quante pagine siamo Che a furia di parlare Oddio Oddio Si può togliere l'interfaccia Non lo sapevo Si può togliere l'interfaccia Non lo sapevo È già qualcosa Raga provano ad andare un attimo così Senza interfaccia Giusto per vedere com'è Però la brutta cosa raga È che non so dove Porca puttana Via 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 Merda 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 Ok Calmi Ok Oh cazzo Oh cazzo Via Ma perché Deve essere così stalker Raga No vabbè Ma sto slender È fatto troppo C'è Sembrano fatte apposta Ste scene C'è Non lo so Sembra fatto apposta Sembra quasi un film Che tra l'altro Adesso Volevo dire via anche questo Nel frattempo Dico tutto Ok 4 su 8 Perfetto Ho visto che sta anche uscendo Il film dello slender Quindi Non lo so Vi aspetto al cinema Andiamo a vederlo tutti insieme Intanto qua Tra l'altro c'è un'altra pagina Help me Ok Comunque Adesso aspettate un attimo Che non mi ricordo Come cazzo ho fatto Ah così Perfetto Perfetto Ho rimesso l'interfaccia Devo riuscire a trovare L'edificio Da qualche parte Intanto raga Lo slender si è volatilizzato Letteralmente Non lo vedo più E dicevo Devo trovare l'edificio Quello Dove era andato anche Nello scorso episodio Perché lì C'è sicuramente una pagina Dato che c'ho una memoria Letteralmente di merda Non mi ricordo A quante pagine sono arrivato Ecco l'edificio Eccolo Devo riuscire soltanto A capire Dove è la porta Per entrare Nell'edificio Dove è la porta Maledetta Porta Cazzo Cazzo Calmi Calmi Calmissimi Tutti Calmi Tutti molto calmi Molto calmi Tanto non può entrare Alto 14 metri e mezzo Ehm Mio dio Devo riuscire a trovare le pagine Raga Aiuto Ehm Prima che riesca in qualche modo ad entrare Non so come Non mi interessa Devo trovare le pagine Ehm Però niente Merda Era qua l'ultima volta la pagina Non mi ricordo dov'è Cazzo mi sa che è nell'altra stanza Ok devo muovermi Devo muovere Devo muovere Devo muovere il culo Ok Via di qua Via Ok non cazzo Ok ma perché Ce l'ho sempre dietro Merda Ehm Devo soffiarmi il naso Ok Calmi Calmi Si L'ho trovata L'ho trovata raga L'ho trovata Sono 6 Sono 6 su 8 Allora Calmi Calmissimi Non ci posso credere Allora 6 su 8 Ce la possiamo fare Basta credere in se stessi Io credo In me stesso Ok Si I grilli adesso Sinceramente Non mi interessano Dove cazzo è andato Ok Penso sia nella stanza di fianco Io Me ne vado via Dalle palle Prima che inizia A comparirmi davanti All'improvviso Ok c'è una macchina Spero ci sia la settima pagina Preghiamo Si Si C'è la 7 Oddio no 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 Prendi la 7 Corri Corri No 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 Non posso morire adesso Non posso morire adesso Non posso Non posso morire adesso Sono a 7 No Non posso Oggi non morirò raga Oggi vincerò Per voi Per voi Merda Dove cazzo Ok Calmi Calmo Calmo Stai calmo Fortunatamente il personaggio Di questo slender Non mangia tanti hamburger Come negli altri slender E può correre senza rotolare a terra Sfinito dopo due minuti Quindi posso correre Però non so dove cazzo andare Questa è la cosa brutta Non vorrei trovarmelo dietro Sono ancora vivo Sono ancora vivo Sono ancora Non mi ha preso Non mi ha preso Ok Ok Sono riuscito a salvarmi Non so come perché mi sono preso Un infarto assurdo Pensavo Sinceramente pensavo di morire Ma Sono riuscito a riprendere i controlli In tempo Prima che potesse prendermi Ok Sono sempre a 7 Raga Non ho perso Non ci posso credere Allora Allora Se Manca l'ottava Devo prendere assolutamente L'ottava pagina Da qualche parte ci deve essere Per forza Ok Allora Allora Tranquilli Tranquilli Sono ancora vivo Sono Sono ancora vivo per poco Però se non trovo Sto cozzo di pagina Non la trovo Devo Cosa mi manca Che sto girando da un'ora Dove devo prenderla Sto maledetta pagina Dove Ditemi dove Ok 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 La canoa La canoa l'ho presa prima Merda L'ho già presa La canoa Ci sono arrivato di là Quindi niente Raga Non posso perdere adesso Vi prego Non fatemi Se battete Tutti le mani Forte forte Favijei riesce a vincere No Vi giuro Vi giuro Che se perdo Lancio il mouse Veramente No Non posso perdere adesso Non posso Allora Quella è la torre La prima Che non c'entra In questo caso C'è un'altra torre Che non trovo Ma in questa L'ho presa La pagina Si L'ho presa Vero Si 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 L'ho presa prima E non c'è più E va bene E va bene 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 Cazzo Cazzo Ok 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 Basta Mi arrendo Se non la trovo Adesso mi arrendo Raga c'è un camion Ma non c'è Se la sono dimenticata Sta merda Di pagina Nell'aggiornamento Se la sono dimenticata Nell'aggiornamento Non c'è Vai via Si 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 era sul camion Era sul camion Era sul camion Era sul camion Soca Se Porca troia No 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 Vabbè raga Lasciamo perdere Che è meglio Cioè ma io posso mai Perdere ad un gioco Che è stato creato Da Thomas Guyen Ma che cazzo Vabbè Vabbè Lasciamo Facciamo Niente Basta 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 Non ne voglio Più sentir parlare Basta Ho raccolto le otto pagine Che sia finito così Oh vabbè Non mi interessa Non mi interessa Ehm Il gioco comunque uscirà il 26 marzo Mi pare Mi pare di aver letto 26 O maggio o marzo No ma mi pare marzo E quando uscirà Sarò contento di fare la storia Che spero Che finisca meglio Di questa maledettissima beta Però Nel frattempo Non penso che lo giocherò più Anche perché l'ho finito Comunque raga Il video direi che può finire qui Se Il video vi è piaciuto Come al solito Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di facebook Che Come in ogni video Trovate nella descrizione Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao